tre mesi è pronto il Viola Park che è uno dei centri sportivi più belli d'Europa e comunque commisso è arrivato, ha comprato la Fiorentina cash e il Viola Park, lo so perché il nostro costruttore che fa il Viola Park oltre a mangiare mezzo Viola Park è il nostro amico, paga tutto cash senza fasullerie, come si sente, come si sente, tutta roba cash e vuole fare anche lo stadio quindi ragazzi è commisso, non si può di niente, poi uno straniero che arriva in Italia sai gli rompono i coglioni, hanno rifiutato anche per Nicolo Gonzalez 45 milioni, comunque fa le cose seriamente fanno, ho fatto 100 sportivi uno dei più belli d'Europa, mi hanno detto che è una roba fuori di testa l'hai visto? No me l'ha fatto vedere uno dei miei miei amici, lo sta facendo lui, è una roba di una bellezza incredibile quindi stanno facendo dei passi in avanti, è tre anni che è qua